Volevo parlare un po' della medicina, abbiamo la fortuna qua in Italia di avere uno dei maestri di Kyokushin veramente importanti Uno dei più importanti al mondo, non perché è il mio maestro e tutto, ma perché realmente nei libri di storia del Kyokushin Kai parliamo del braccio destro di Sosai, un maestro che è sempre stato vicino a Sosai in vita durante gli allenamenti che era istruttore degli Uchi Deci a Tokyo, è il nostro maestro che è oltretutto il Viva Messina, Kenshan Tsutomu Vakyuuji